ciao a tutti amici benvenuti in questo primo video del primo canale questo è un video di presentazione di questo nuovo canale dove farò per lo più delle sorti di gameplay su giochi non nuovi ma vecchi un esempio è questo gioco qua che si chiama real tournament è un gioco del 1999 io l'ho provato è molto bello e dopo essermelo scaricato ho detto ma si proviamo a crearci un canale per fare tutti i giochi di questo tipo qua quindi oltre a questo non lo so faremo anche giochi come battlefield 1942 che anche un gioco del 99 mi sembra più o meno e altri giochi comunque di quell'annata lì o anche un po su ma che comunque girino con poco e siano belli allora direi di provare a farci una partita facciamo single player proprio per provare creiamoci il nostro pc allora ok allora in questo momento siamo contro uno di contro un computer allora come si gioca praticamente in giro per la mappa ci sono delle armi che possono essere quest'arma qui che fa questo in spara dei raggi chiamiamoli così poi c'è ci dovremmo essere il nemico che l'ho visto che fino a fatto vabbè meglio così almeno non rompe un po' le scatole se no se no se no c'è se riusciamo a trovarlo dobbiamoci ancora un po' di munizioni c'è questo che è il lanciarazzi o le altre munizioni del lanciarazzi grazie allora se no c'è questa che è una tra le mie armi preferite spero abbiate capito perché un giro per le mappe però penso soltanto nei single player adesso non l'ho mai provato c'è un'arma chiamata redeemer quest'arma è l'arma più potente del gioco e ha una funzionalità che mi vi farò vedere poi al massimo in un gameplay futuro in in multiplayer ho sentito un giammario port cazzizzolo crepa fa un bagno grazie olle oh li mortacci come avrete capito spero quella lì è la vita ci sono giochi molto belli e che praticamente non serve niente come prestazioni di computer ad esempio io ho un xp del 2000 eeeh del 2000 si dal 2000 32 bit quindi fa proprio schifo non ha scheda video infatti uso quella integrata eeeh ah si questo si carica no dai trovarne un po' magari farò anche degli indie horror o altri giochi così ok abbiamo vinto il primo livello allora partiamo con la seconda mappa abbiamo siamo contro due avversari stavolta quindi vedete che aumenta anche sempre di più la difficoltà eeeh comunque mi sono dimenticato di dirvi che eeeh ci sono diverse armi come eeeh vabbè questo lo penso l'abbiate capito eeeh ci sono poi anche dei delle sorte di bonus esempio adesso se riesco a trovarmi uno ve lo posso anche far vedere ma eeeh allora si anche questo però non so precisamente che cosa sia mentre invece ad esempio questa qua ecco è un'armatura per il momento più di più la difesa infatti adesso cercherò subito di olleh meno uno doppia pistola eeeh muori porco due ok ok ma è tre anche quello lì? no eh ok ok la mista armola bc allora eeeh ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua muorici muorici olleh ora vado solo di questo nooo mi ha ammazzato porco due dovendo subito che me la riprenda si nooo ma dai ma non è possibile mi ha respawnato davanti ok 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 adesso sono ma cazzo solo sette munizioni olleh vinto 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 ok ok ne facciamo ancora una e poi stoppo il video va perchè sennò viene troppo lungo credo lo spero perchè sennò sembro un idiota vabbè eeeh ok ci sta facendo l'installazione della della mappa ok oh io l'odio questa l'odio questa l'odio questa l'odio questa perchè lei deve partire subito con un fottuto lanciarazzo io no 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 eccoti 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 olleh almeno l'ho chillata va le parole ci vogliono scendi ma come ha fatto scusi vorrei un lanciarazzi scusi oh grazie ma muorici ma che è una cosa molto triste allora si passa alla mappa successiva su tutte queste mappe qui ah ti ho visto che sei arrivato dall'impicis ma dai però io sta mappa non sono mai riuscito a farlo ve lo giuro no 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 che kill vado fantastica una tra le chi migliori che mi siano mai venuto al primo video fantastico ma com'è eh vabbè ciao eh ooooh ti prego ti prego ti prego ti prego o di sì 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 si sì 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 oh cosa è successo che No, mi ha fatto gioinare nella multiplayer Closer No, no, adesso no Mi incazzo Resume No, no, no Adesso non dimmi che non la devo rifare No, ti prego No Vabbè, io Niente Io non la rifaccio più Bene La farò nel prossimo gameplay Quindi direi che Spero Che questo Primo video del canale vi sia piaciuto Se partiamo già così Non penso che sopravviverei in the horror Però ci proverò E allora io direi Ciao a tutti al prossimo video Ciao ciao